Milano Infrastruttura Milano è una grande area metropolitana che può competere alla pari con le altre grandi aree metropolitane europee, forse gli mancava una consapevolezza, significa anche che bisogna andare avanti. Quali sono le opere infrastrutturali che secondo lei sono state più importanti per Milano, se dovesse scegliere un paio, e quali sono i prossimi progetti? Ne cito due che sono collegate, da un lato le nuove metropolitane e dall'altro i grattacelli di Porta Nuova, che tra l'altro insistono su una delle stazioni metropolitane, anche la dimostrazione di come investimenti pubblici e privati, se si parlano, producono un elevamento a potenza dei vantaggi. Questo è quanto ci dobbiamo portare dietro da questi anni, cioè il fatto che il pubblico ha un ruolo di guida e organizzazione di tanti interessi nella comunità, ma se perde di vista il fatto che tutti i vari interessi vanno coinvolti, organizzati, portati a condividere gli stessi obiettivi e integri anche degli obiettivi che invece hanno i privati, Allora, se accade questo le soluzioni diventano di gran lunga più efficaci e credo che sia questo il segreto di questi anni. Per il futuro le priorità di Milano quali potrebbero essere? Continuare a crescere e garantire opportunità di lavoro e di emancipazione anche economica ai nostri cittadini. Per farlo dobbiamo dimostrare che per chi vuole investire Milano è il luogo giusto, bisogna continuare a portare infrastrutture fisiche e anche immateriali. Pensiamo anche a tutto il tema dello sharing, non sarà un'infrastruttura fisica ma ha cambiato la vita decine di migliaia di persone, tanto quanto alcune opere. Questo credo che sia il nostro segreto obiettivo per il futuro. Senza più Expo, sui tempi ci saranno secondo lei comunque gli allungamenti come era prima o è una lezione per il Comune? È una prova di maturità per tutti perché non era solo il Comune ma tutti quanti si sono posti l'obiettivo di rispettare i tempi. Oggi non abbiamo più la data di scadenza come allora ma dobbiamo dimostrare tutti quanti, pubblico e privato, che le scadenze le si rispetta anche se non c'è un grande evento. Se riusciremo a farlo significa che siamo davvero una delle aree metropolitane migliori in Europa.